Benvenuti nell'ultimo episodio di Super Mario Maker 2, seconda stagione. Cominciamo molto bene con la pianta piranha lì, vero? In ogni caso, questo è il centocinquantesimo ed ultimo episodio della serie. Questo solo finché non uscirà un altro update dove riprenderò la serie? Forse? Non lo so. Per adesso però, immettiamo il primo codice e cominciamo a giocare ai vostri livelli per l'ultima volta. Tonks scleririrà. Aspetta, Tonks sclerirà. Ho letto male, cominciamo molto bene. È il mio primo livello di Super Mario Maker 2, quindi non mi giudicate. Non ti giudicherò, mio caro ciccio, anche perché ho letto male il titolo. Inoltre, che bello, questo vuol dire che non potrete più inviarmi livelli troll. Parlando di livelli troll, al 90% qui c'è un blocco kaizo, vero? Me lo sento. No? Ok, c'era. Ok, e mi sono autotrollato. Pensavo che fosse molto più in basso. C'è una cosa molto bella, eh? Ecco qua. Ce n'è un altro? No, strano. Oh mio Dio, quelle nuvole là sopra mi preoccupano, ma... Sapete una cosa? Non importa, perché a quanto pare ho sbagliato direzione. Oh yey. Hai messo un blo... No. Questo è l'ultimo episodio. Non posso arrabbiarmi, ok? È vietato. Da chi? Da tutti. In B4, altro blocco kaizo. Ok, no. Strano. Che succede? Perché ho fatto questo salto quando dovevo andare leggermente più avanti? Ok. Non importa. Suppongo sia un livello corto ma bello, visto che c'è una condizione speciale. Spero che lo sia. Spero vivamente che lo sia. Cosa vuoi che io faccia? C'è qualcosa qua? Qualcosa qua? Devo correre? Cosa vuoi che io faccia? Non comprendo. Devo saltare per cercare un blocco che potrebbe anche non esserci. Curioso. Ok, non vedo blocchi. Quindi l'unica è correre qua. Per forza, no? Corri. No. Ok. Oh. Non sapevo se potesse fare. C'è qualcosa qua? No? Però. Mmm. Che io debba... Mmm. Cosa vuoi farmi fare, gioco? Vuoi trollarmi? Sì, ma come? Perché là non c'è niente, no? Abbiamo visto che là non c'è assolutamente niente. Che ci sia qualcosa sopra? Qua? No. Qua? No. Ehm. Seriamente non capisco. Qua sotto... Niente. Qua non c'è nulla. Non comprendo. Forse i commenti che finita... Eh... Che finalmente sto abilitando. Mi dicono dove devo andare. Chi lo sa? Adesso vedremo. Ehm. Vediamo se... Oh, c'è qualcosa qui. Bisogna saltare al momento giusto allora. E puoi volare. Quindi puoi volare, puoi volare. No, quelle puoi, non puoi volare. Ok. Quindi? Andiamo! Non so come si usa sto coso. Dovevo fare lo spin jump. Sì, sì, sì. Con lo spin jump è molto più easy e molto più pratico. Almeno adesso però finalmente so cosa devo fare. Non cose random, ma cose ancora più random. Allora, no. Dimmi che... Posso ancora andare qua sopra? Sì, ok, perfetto. Allora. Corri. Spin jump. E dovrei continuare a fluttuare, vero? Sì, perfetto. Seguo le monete tanto perché mi va. E ho fatto male. Perché il tubo è un po' più a destra. Ok. Nessun problema, vero? Nessun problema. Il gioco mi trolla, ma io non mi farò trollare più di 20 volte. Dallo stesso livello almeno. Quindi... Oh, posso? Oh mio Dio, mi fai... No, non riesco a fare neanche un salto. Cominciamo davvero molto, molto bene questo episodio. Facciamo una cosa così. Si fa prima. Ok, dov'è il tubo? E sono caduto di sotto un'altra volta. Perfetto. Dopo tre secoli ce l'ho fatta. Oh mio Dio. No. Cosa? Cioè, posso fare così, eh? Oh, devo tornare dentro? No. Probabilmente devo solo planare. Avrebbe senso. Ci provo? Iiii. Plano. Plano. Ho fatto male, vero? Ho fatto bene. Ho fatto benissimo in realtà. Bene. Ok. Forse ho schippato una parte di livello? Secondo voi mi interessa? Assolutamente no. Voglio solo andare avanti e godermi la vita. Eccoci qua. Si va su. E magari... On off? Oh. E ripeto, secondo te mi interessa qualcosa? Non dite nulla, per favore. Ok. Ora che sono tornato, posso fare così e finire. Perfetto. E ti ho visto, eh? Mi sa che l'altro tubo ci avrebbe portato qui, dove non si poteva vincere perché c'erano le spine sull'altro blocco. Ah, perfetto. Quindi livello completato. Nuovo record. Ma... No, no, no. Finiamo così. Volevo provare una cosa, ma... Non credo si possa fare, quindi... Andiamo al prossimo livello. Tra le montagne innevate. Prendi le monete. Ok, nessuno. Un'altra condizione speciale? Vabbè, non importa, ve l'ho già detto. Non mi interessa. È l'ultimo episodio. Potete trollarmi quante volte vi pare. Rimpiangerò quello che ho appena detto, eh? Lo dico in maniera molto sincera, ma... Per ora non importa, ok? Tra le montagne innevate con tua death. E con... Questi cosi che non cadono. Bene, buon per noi. Sì, ma io cado. Perché scivolo. Oh mio Dio, sono vivo. Ok, perfetto. Che io possa... Fare questo salto. Nice. Perfetto. Ora però devo... Tornare indietro senza... Morire. No, no. Come ho fatto a scivolare? Volevate più tagli, vero? Eccoli qua. Ora. Se riesco a non scivolare e a non perdere il fiore di fuoco, magari, vorrei vedere cosa c'è oltre questo punto. Ciao, ciao. Perfetto. Oh miei dei. Faccio una cosa molto bella. Ecco qua. Si corre, si corre, si corre, si corre. Sono vivo, sono vivo. C'è un... C'è un change-chomp. C'è un... Ci sono più change-chomp. Beh, devo andare qua, vero? Non devo andare qua? Spero tanto di sì, ok. Ho visto un Banzai Bill qua sopra o sono solo io? L'ho visto prima. Eccolo qua. Ma ho preso la moneta. Buon per me. Suppongo di dover cadere. Ho fatto bene. Sì, ok. Qua sotto per prendere altri fiori di fuoco sarebbe l'ideale, guarda. E invece no. Allora facciamo così. Scivoliamo qua sotto. Evitiamo i change. Jump. E andiamo avanti. Ho bisogno di solamente altre due monetine. Da 30. Ehm... Qua posso scendere. A quanto pare. Non osare... No. No, 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 no. Non allontanarti troppo. Ok, ho fatto bene ma si è distrutto da solo. Quindi non ho fatto bene per niente. E si è annullato anche quello. Bene, qualche altra cosa. Qualche altra cosa c'era ma l'ho evitata, fortunatamente. C'è un modo per riprendere un power-up, please. Perché altrimenti devo ricominciare a levare da capo. Dovevo aspettare, vero? Sì. Ripeto. Volevate più tagli, vero? Eccovi qua. Ora, cerchiamo di stare attenti e di evitare soprattutto questi qua. Vediamo un attimo come spawnano in questo modo. Perfetto. Quindi sono un po' nei guai. Perché ce ne sarà sempre uno in più. Però se vado lontano dovrebbero o cadere o de-spawnare. Quindi, se adesso sto attento e riesco ad evitare questi... Dannazione! Ce l'ho fatta! Perfetto. Sono vivo. L'importante è quello. L'importante è quello. Ora, suppongo di poter evitare il troll del... Ah, non scivolo più qua, eh. Dai, cadete pure, cicci. Mi ha colpito lo stesso. Andiamo avanti e basta. Cosa c'è qua? Oh no! Corri! Oh! Quanto... Ti ho... Oh! No! Oh! 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 Grazie del da-ba-da-ba-ta-ba-ta! Ma non importa? Perché sono vivo? Certa cosa qui... Mi fai andare avanti verso nuove mete e nuove monete da prend... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ehm... Così? Yab-yab-yab-yab-adu! No, 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 no! No, 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 no! Oh, ok, no, non c'è. Non sembra esserci... No! Ci sarà. Uno di questi... Sarà un blocco kaizo e io mi arrabbierò. Non sapete quanto. Va... Oh mio Dio! Che casino che c'è qua dentro! Via, 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 via! No! Perché sono stupido! Ok, allora, siamo tornati qui. Ho fatto un taglio, ovviamente. Anche se si era già notata la cosa. Giuro che se adesso becco... Ok, no, non l'ho beccato. Però devo semplicemente aspettare che questo coso arrivi nel punto giusto. Esatto. Mi basta stare praticamente fermo. Non praticamente fermo. Non praticamente fermo per nessuna ragione al mondo, ma sono vivo. L'importante è quello. Bene, benissimo. Sono ancora... Vivo! No! Sì! Perché? Oh! Eh... No! Ho capito! Ho capito assolutamente! Tu vai giù! Ma io... Giuro che... No! Ok, suppongo... Oh mio Dio! Non so cosa ho fatto, ma so che se quella è la porta che porta sopra, non posso prenderlo. Ok, pazienza. Oh no, lo devo rifare un'altra volta, vero? Sì. Esatto. E adesso riuscirò forse ad andare qua, sì. Perché volevo provare a prendere l'elmo. E mi sa che ce la posso fare, aspetta. Se non ce la faccio al massimo... Me lo tengo in testa e basta. Sì, perfetto, ok. Questa è una cosa iperarcipositiva per me. Perché così io almeno ho un colpo extra. Ok? Che in realtà è una cosa molto buona e importante per me. Ok. Ok, perfetto. Si va avanti. Ho bisogno di un'ultima moneta. Eccola lì. Perché l'applauso? Aspetta. C'è una battaglia boss, vero? C'è assolutamente una battaglia boss adesso. No? Ok, no. Preferisco non aspettare e andare avanti. Ehm... Oh, grazie. Grazie al cielo. Ti adoro. Ti amo. Grazie. Mua. Parapapà. Ok. Adesso. Andiamo al prossimo. Sono parecchio belli questi livelli, ok? E... Guarda. Tanto per... Intanto nuovo record. Ha ha. Ti metto anche io wow. Perché tua death. E perché anche gli altri ti hanno messo tua death. Cioè wow. Andiamo. Cito il commento. Non è un troll, lo giuro. È solo un livello un po' classico. Giocalo, please. Ok. La fine di un lungo viaggio. La percentuale fa intuire che in effetti non è un livello troll, ma... Il fatto che tu me l'abbia detto che è un livello non troll, vuol dire che è un livello troll? Ah, mind game. Ok. Andiamo. Ok, no. Non è un livello troll. Chi fa i livelli troll non mette due funghi. Quindi all'inizio. Ok. Quindi posso rilassarmi un po' di più. Forse. Cosa vuoi che io faccia? Devo aspettare e basta. Oh mio Dio, c'è il tempo. Potevo andare avanti e basta. Sì. Però magari c'era una chiave. Dovevo controllare, ok? Oi, scusi signore. Posso andare qua? Ok. Si va su. No, non osare. Andiamo avanti. Abbiamo poco tempo. Neanche l'ho vista sta cosa. Quindi... Attenzione. E si va. Corri. Aia. Cosa vuoi farmi fare con questo coso? Niente. Assolutamente niente. Era per perdere tempo. Ok. Almeno c'è un checkpoint. Sia lodata... Ah. Sia lodato il cielo più che altro. Ok, allora. Ancora? Oh my goodness. Sono vivo. Ok. Ce ne sono tre. Non importa. Sono vivo. Sono vivo. Sono vivo. Sono vivo. Non c'è uno spunzo qui, vero? Ok. Non... Oh, martello. Oh no, martello. Beh, una cosa la so. Posso fare così. E sbam. Ah 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 ah. Ok. Sì, è un livello abbastanza classico, eh. Quindi devo stare attento e rompere il tartosso con il martello. Martello. Ok. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Avrò fatto bene? Sembra di sì. Bene. Monete. Non dico mai di no. Tanks. Tonks? For planes. My game. Thanks you... No, aspetta. Thank you for much for play my game. Ripeto. Thank you so much for playing my game. Bah. Ok. Diciamo che... Ma sì, dai. Facciamo giusto l'ultimo, ultimo livello. Che avrà questo onore. A quanto pare, un tizio giapponese. Allora. Tonks, fai questo livello non mio. Diventa un... Ban ban. Un boom boom. Va bene. Di... Non lo so. Marchio registrato. Parole giapponesi. Rombo. Rador. Ok. A quanto pare... Ah, devo controllare... Ok. Allora, una cosa. Tolgo questo. Ok. E godiamoci il livello dove devo controllare dove va boom boom. Questa è una cosa molto caruccia. Un po' come la talpa, ricordate? Solo che... È boom boom. Non è la talpa. No, no. Boom boom. Vieni qua. Boom boom. No, per favore. Vieni qua. Siamo qua sotto noi. Non vero dove sono, ma... Boom boom, please. Vieni qua. Bravissimo. Boom boom. Vai ancora un po' più sopra, magari. Ok. Colpisci quel coso di grazia. Please. Ok. È una bomba. Allontaniamoci per sicurezza. Boom. Boom. Ha capito? Perché boom boom. Oh, un'altra bomba. Ok. Che poi fa esplodere quella zona, quindi devo andare poi a sinistra. Ok. Questa è una bella cosa. Non è affatto cattivo come livello, anzi divertente. Vai. Colpisci la pianta. Psych. Per favore, boom boom. Per favore. Vai avanti. Il punto è che non capisco dove sono. Posso solamente capire dove sono in base a dov'è il boom boom. Cosa che è un po' strana, in effetti, ma non importa. Ok. Vai. Rimbalza. Ancora. Allontaniamoci dalla bomba. Dove sono? Sono vivo a quanto pare. Bene. Deve andare lì. Poi c'è un checkpoint che non posso attivare. Ah no, aspetta. Lo devo poter attivare, giusto? Dove sono? Non lo so. Puoi colpire qualcosa? Bravo. Altri due colpi, per favore. Boom boom, svegliati. Dai. E adesso. Uno. Due. Bravissimo. Boom boom. È finito là sotto. È giusto che sia finito là sotto? Eh. No. Ok, no, sì. Funziona. Perfetto. Sono vivo. Anche se non so dove sono. Grazie. Te lo dico io? Grazie ciccio. Grazie ciccio. Quale miglior finale? Vero? In ogni caso, abbiamo finito tutto. Giusto? Sì. Ok. Quindi. Wow. È stranissimo. È seriamente molto strano. aver finito una serie da 150 episodi. Che tecnicamente potrebbe anche non essere finita. Perché, ripeto, dovesse uscire un altro update, molto probabilmente tornerà la terza stagione, però con meno episodi. Ma di quello ne parleremo quando annunceranno nuovi update, ok? Quindi, io adesso vi saluto. E noi ci vediamo nel prossimo video. See you then. Ah, giusto. Ah, giusto. Una parola. Per le persone che mi hanno inviato così tanti livelli troll e così tanti livelli difficili, solo per vedermi urlare. Andatevene tutti quanti a fare merenda. Ciao!